Musica Nei mesi scorsi è finita sotto la lente di ingrandimento della Commissione Controllo e Garanzia per una presunta violazione della privacy, l'Ausino, società partecipata che gestisce i servizi idrici a Cava dei Tirreni, presieduta da Mariano Agrusta. A focalizzare l'attenzione sulla questione è stato principalmente il consigliere Pasquale Senatore, dopo che alcuni cittadini avevano ricevuto sul cellulare sms inviati da una ditta incaricata dall'Ausino di controllare i consumi idrici in cui si chiedeva l'invio di una foto con la lettura del contatore. Io ritengo che ci sia stata una presunta violazione della privacy in quanto la motivazione è due dal fatto che sono i cittadini che devono comunicare all'Ausino la lettura e qualora ciò non lo facessero sono i tecnici incaricati dall'Ausino che devono verificare la lettura dei contatori. Invece l'Ausino nei mesi scorsi ha affidato l'incarica ad una società di Palermo e molti cittadini si sono visti arrivare sul proprio telefonino dei messaggi dove veniva richiesta la lettura del contatore. Questo ritengo che sia una violazione della privacy e quindi ovviamente approfondiremo con la documentazione prevista per vedere se ci sono veramente degli aspetti giuridici rilevanti. Abbiamo già avuto una prima commissione nel mese di marzo, da marzo ad oggi solo in settimana abbiamo avuto la possibilità di poter parlare con due ingegneri dell'Ausino dopo una risposta alquanto superficiale e a mio parere molto sgradita e di poco rispetto da parte del presidente dell'Ausino nei confronti dei consiglieri comunali dove praticamente nella sostanza ha detto vi do questa letterina, cliccate su questo link da parte dell'Ausino e avete tutti i documenti che richiedete. E questo ritengo che sia stato offensivo nel ruolo proprio dei consiglieri comunali perché se il presidente dell'Ausino sta là deve anche ringraziare ai cittadini che pagano le tasse e che gli pagano un buon stipendio quindi è giusto pure che venga a rispondere qualora ci fosse stata questa presunta violazione della privacy.